Ciao, pubblichiamo oggi su Lex la nostra proposta di legge per quanto riguarda gli animali d'affezione e il randagismo. Abbiamo ritenuto opportuno depositare il progetto di legge che è stato elaborato dal nostro gruppo di lavoro che si chiama Amici Animali. È un gruppo di lavoro presente in regione, può farne parte chiunque sia interessato all'argomento. Vi invitiamo quindi, se volete farne parte, a scriverci. Questo progetto di legge è comunque, anche se depositato, passibile di miglioramenti, di modifiche che saranno proposte come emendamenti in quanto anche il progetto di legge che verrà abbinato a tutta la discussione che si svolgerà in commissione sarà poi presentato sotto forma di emendamento. Vi invitiamo a dirci qual è il vostro parere. Vi esponiamo adesso quali sono le modifiche principali che vorremmo introdurre grazie a questo progetto di legge. Partendo dal principio che gli animali d'affezione sono considerati esseri senzienti, che hanno delle loro emozioni, che hanno una loro sensibilità, ci pare giusto smetterla di considerarli come degli oggetti e quindi il divieto di esporli, appunto come oggetti, nei negozi per venderli. Abbiamo pensato alle persone anziane o alle persone che sono ricoverate in ospedale e nella nostra legge proponiamo che gli animali possano essere condotti in questi luoghi, ovviamente con le dovute cautele sanitarie. Abbiamo anche pensato di vietare di tenere gli animali alla catena, a meno che questa sia una pratica per una tutela sanitaria o di sicurezza, comunque certificata da un veterinario e che quindi sia una pratica per un breve tempo, perché effettivamente tenere per tutta la sua vita un animale alla catena riteniamo che sia veramente inumano. Divieto anche di addestramento con metodi che possano costituire maltrattamento per gli animali, quindi con l'aria strozzo, con l'aria elettrica, con l'aria compuntale e quant'altro. Divieto anche di utilizzare gli animali ai fini dell'accattonaggio, quindi se una persona senza tetto vuole tenere un animale, benissimo, chiaramente ne ha perfettamente diritto, anzi magari appunto è la sua famiglia, però che non venga utilizzato o esposto per avere dei soldi e per impietosire le persone, anche perché sappiamo che alcune volte questi animali vengono purtroppo sedati per tenerli ore e ore fermi, immobili vicino a queste persone. Chiediamo anche che venga sanzionato chi maltratta gli animali durante fiere o durante dei circhi e che non sia possibile metterli come premi per lotteria o fiere, proprio perché non sono oggetti, sono esseri senzienti e questo è importante che passi proprio come messaggio molto forte. Chiediamo anche che venga impedito di darli in adozione all'estero, perché sappiamo che molte volte fanno una brutta fine e anche in quelle regioni che non le tutelano in questo senso, quindi che permettono le adozioni all'estero. Nonché di fare verifiche prima e dopo presso gli adottanti, che in qualsiasi caso non potranno essere persone che sono state condannate con reato di maltrattamento sugli animali, perché chi lo fa una volta può farlo ancora, quindi riteniamo che veramente non sia il caso di dargli altri animali. Abbiamo introdotto anche un concetto nuovo che è quello del villaggio dei randaggi. Strutture educative per le persone, per imparare come si trattano gli animali, appunto che sono esseri senzienti, come conviverci, come non usarli solo a scopo egoistico, ma rispettare la loro natura, che dovrebbero essere, diventare nell'intenzione proprio dei luoghi di aggregazione, dove persone e animali imparino a convivere insieme il più serenamente possibile. Aspettiamo i vostri commenti, vi ringraziamo se vorrete farceli il prima possibile e vi ringraziamo anche a nome di tutti gli animali per cui veramente abbiamo tanto ma tanto amore.